Ciao a tutti ragazzi e bentornati, al solito se ancora non l'avete fatto iscrivetevi in modo da ricevere gli aggiornamenti riguardanti i nuovi video pubblicati visitate la pagina facebook, visitate lo show, se volete mettervi in contatto con me utilizzate la mail oppure utilizzate la pagina facebook nel tutorial di oggi invece continuiamo la nostra playlist dedicata al SOLIDWORKS come al solito spostiamoci in part design e su un piano frontale andiamo a realizzare il nostro schizzo che nel tutorial di oggi sarà un poligono quando passiamo con il mouse sul simbolo del poligono come vedete abbiamo un'unica opzione di partenza ma ci viene subito specificato che potrà essere possibile cambiare il numero dei lati del poligono una volta entrati all'interno del comando poligono quindi selezioniamoci e andiamo a vedere quali sono i parametri che possiamo considerare per realizzare il nostro poligono come vedete abbiamo subito la prima opzione che è quella di trasformare il nostro poligono in linea di costruzione specificare il numero di lati del poligono e specificare soprattutto se è realizzato utilizzando il cerchio iscritto oppure il cerchio circoscritto di questo cerchio andremo a specificare prima di tutto l'origine quindi le coordinate x e y e poi dovremo andare a specificare il raggio che cambierà a seconda se abbiamo a che fare con un cerchio iscritto oppure con il cerchio iscritto o circoscritto appunto e poi possiamo specificare questo angolo che andiamo a vedere subito di che cosa si tratta quindi il primo punto rappresenta l'origine del poligono quindi mi sposto e lo vado a posizionare ad una distanza y nulla ed x diversa da zero ho già specificato il numero di parametri per lato e poi posso andare a specificare l'inclinazione di questa retta che unisce il centro con il punto che ho preso per partire nella definizione del mio poligono con l'asse orizzontale ecco definito il poligono quindi come abbiamo già detto posso andare ad aumentare il numero di lati lo porterò ad esempio a 6 posso andare a variare l'origine ad esempio la porto in 0 spostando nella posizione posso variare le dimensioni del raggio in questo caso iscritto oppure posso specificare che deve essere circoscritto le dimensioni saranno le stesse, le dimensioni del lato saranno le stesse quello che cambierà sarà la dimensione di questo cerchio in particolar modo quindi il diametro del cerchio e poi posso andare a specificare l'orientamento tramite l'angolo che abbiamo visto in precedenza quindi lo rifaccio un'altra volta cambiando ad esempio il numero dei lati portandoli a 5 e posso specificare quindi il nuovo poligono utilizzo il numero di lati vari a 5 lo vado a posizionare ad esempio nell'origine quindi in maniera analoga posso andare a definire il poligono specificando ad esempio che sia iscritto in questo caso quindi è abbastanza semplice e intuitivo presento un nuovo grado di parametrizzazione perché non devo andare a specificare all'inizio con che tipo di poligono sto lavorando ma posso andare a specificarlo in fase di costruzione come ovviamente posso avere delle linee di costruzione per il poligono mentre come vedete per il cerchio scritto oppure circoscritto avrò sempre a che fare con delle linee di costruzione quindi è abbastanza semplice e se non clicco sull'opzione nuovo poligono ovviamente posso andare a modificare i parametri del poligono che ho appena realizzato un'osservazione che possiamo fare è che in questo caso non ho la possibilità di inserire dei vincoli all'interno del poligono cosa che poteva essere fatto con altre figure più semplici magari però con questo tipo di poligono non posso andare ad inserire dei vincoli già in fase di realizzazione dello schizzo come al solito esercitatevi e se il tutorial vi è piaciuto e servito iscrivetevi, commentate, mettete mi piace e ci vediamo alla prossima grazie grazie grazie